Fumata bianca per la festa di Sant'Alessandro ad Ischia dopo un momento in cui non si sapeva se anche quest'anno la festa si sarebbe fatta oppure no, ma ce ne parla il dottor Franco Napoleone. Allora, come è andata? Io ritengo che è andata benissimo perché dopo sette mesi siamo riusciti a raggiungere un accordo tra le varie associazioni, ma soprattutto con il Comune che partecipe in modo positivo a questa manifestazione a cui si sono associate anche l'associazione albergatore e l'ASCOM. Ci hanno garantito appunto di darci un contributo per la realizzazione perché la manifestazione ha un costo e quindi va sostenuta, anzi lancio un appello a tutti gli isolani perché saremo costretti nei prossimi giorni a effettuare di nuovo la quest per raggiungere l'obiettivo prefissato. Quindi chiediamo a tutti gli isolani di essere partecipi affinché questa manifestazione non finisca nel nulla perché è la nostra storia. E ricordiamo gli orari e quello che è il percorso? Gli orari saranno senz'altro alle ore 21 del giorno 25 e ci sarà la partenza del corteo da Sant'Alessandro alla piazzetta San Cirolo, dove si esibiranno in spettacolo ognuno con i propri numeri. Giorno 26 invece sarà dal castello aragonese, partirà la sfilata del corteo storico con rievocazione dei greci fino a completarla con i borboni e raggiungerà il borgo di Sant'Alessandro.